Allora raga, ho scoperto una ricetta per fare fragole buonissime per l'estate ovviamente. Allora, in una ciotola o in una vaschetta di gelato metti 10 fragole, levando il pezzo verde sopra, poi ci mettete 5 gocce di limone e 2 cucchiaini di zucchero, ci metti un bel ciuffo di panna e la ricetta è top. Vi dico di provarla, non comprate al supermercato le fragole che sono una M, vabbè, ciao!